Due mesi di chiusura disposti dal questore di Pesaro, Antonio Lauriola. Tanto è costato al bar e caffè sulla strada statale adriatica a Pesaro l'attività di spaccio di una delle titolari nonché barista, una 19enne pesarese che con la complicità di un amico albanese di 22 anni aveva avviato all'interno del bar, sembrerebbe all'insaputa degli altri soci dell'attività. L'attività di spaccio è stata stroncata però dagli uomini della questura di Pesaro che con una volante sono piombati nel locale a lune 30 della mattina tra domenica e lunedì e arrestato in flagranza di reato i due spacciatori che hanno passato la notte così in cella di sicurezza. Un'operazione lampo a cui le forze di polizia sono arrivate grazie ad una segnalazione di un cittadino. Su una telefonata di una signora che ci ha avvertito che all'interno del bar e caffè si spacciava specificando anche la persona che spacciava dal modo di vestire all'incirca dell'età che era un giovane e della collaborazione da parte del titolare al 5% del locale e dipendente che stava dietro al bancone. Si è comportata da poliziotta nel senso che ci ha fornito tutte le indicazioni necessarie per poter arrivare direttamente alle persone con la massima certezza. Quindi la volante che è intervenuta si è resa conto sin dall'inizio delle persone che doveva controllare e il risultato è stato il sequestro di sostanze stupefacenti per circa 16 grammi. Oltre alla droga sequestrata nel locale, le perquisizioni personali ed abitative dei due arrestati ha permesso anche di trovare bilancini di precisione e la somma di 250 euro in contanti frutto dell'attività di spaccio e altre sostanze oppiace. Questo numericamente è il quinto arresto in poco tempo della squadra mobile di Pesaro che ha messo in sicurezza prima il parco Miralfiore e ora punta a stabilizzare altre zone calde della città. I punti monitorati dalla Polizia di Stato sono parco Miralfiore, rimembranza in modo specifico, via dell'Acquedotto, piazzata dell'Acquedotto, i giardini del 25 aprile che si collegano poi da dietro sempre con noi parco Miralfiore. I due spacciatori processati per direttissima hanno patteggiato la pena. All'albanese di 22 anni sono andate una condanna di un anno, un mese e 10 giorni ed il pagamento di una multa di 1200 euro. Alla 19enne pesarese, un anno e due mesi e 1400 euro di multa. Bene sospese per entrambi, perciò i due sono già tornati in libertà.